Ciao, sono Giulia, sono l'artista che si è occupata dello sviluppo e dell'ideazione della parte scultoria in alluminio delle tre sculture, le adamantine. Ciò che mi ha maggiormente ispirato per scegliere, nella scelta dell'oggetto, dei luoghi e diciamo di come condurre l'intero processo, sono state le passeggiate che abbiamo avuto con membri della comunità locale l'anno scorso. Durante queste passeggiate una cosa che è saltata agli occhi è stata la presenza delle torri, le torri di avvistamento medievale che servivano soprattutto a proteggere da conflitti in una comunicazione di guerra che avveniva attraverso luci e specchi. Questo è stato un dato. Un'altra cosa che mi è molto piaciuta è stata durante una conversazione con lo storico Danilo è stata la presenza delle edicole della Madonna, delle madonnine, delle divinità all'interno di crocicchi in determinate aree di questi parchi. Questa presenza a me è sembrata molto bella perché riguarda punti dove l'uomo si confronta con un bivio, una scelta e quindi mi sembrava molto forte, molto bello avere un elemento, una colonna solido con una testa che gira. Quello che sto descrivendo nello specifico è uno specchietto per allodole. Lo specchietto per allodole è uno strumento venatorio, antico, veniva usato in passato per cacciare le allodole. Naturalmente adesso anche questo oggetto mi piacerebbe si svuotasse di questo tono conflittuale con la natura, sebbene comunque, nonostante i toni conflittuali, venga da un dialogo con la natura. Mi piacerebbe conservare questo dialogo, questo dialogo quindi idealmente, immaginificamente, sarebbe bello pensare che possa richiamarle le allodole in queste colline dove ormai non ci sono più per una questione anche di agricoltura intensiva e quindi che sono state un po' allontanate. Quindi lo specchietto per allodole, che è un attrezzo fatto a mano, un attrezzo artigianale, diventa un oggetto digitalizzato in alluminio, quindi completamente lucido, che quindi è specchio esso stesso e che idealmente ha una presenza di un gioiello nel verde, di una presenza sobria ma un po' magica nel bosco con un tono un po' fiabesco.